L'architettura del progetto di home si basa su due componenti fondamentali, la control room o sala di controllo centrale, quella cioè da cui il medico è in grado di effettuare il monitoraggio dei parametri vitali di tutti i pazienti a lui assegnati e l'unità di controllo locale che viene installata presso l'abitazione del paziente insieme con tutti i sensori ambientali e biomedici che servono per realizzare il monitoraggio. Il progetto di home prevede che i sensori che vengono installati presso l'abitazione del paziente possano utilizzare sia la tecnologia wired, quindi un collegamento attraverso un cavo per la trasmissione del segnale, sia la modalità wireless, cioè senza fili, utilizzando tutte le tecnologie attualmente disponibili da wifi, ARF, AZB. Questo al fine di limitare l'invasibilità dell'installazione per il paziente stesso. Andiamo ad esaminare ora come il medico attraverso l'interfaccia presente nella control room, quindi nella sala di controllo centrale, può effettuare il monitoraggio del paziente. Questa è la schermata che si presenta al medico una volta che si è loggato al sistema con il proprio username e password. Nella parte alta troviamo l'ID del medico che sta lavorando, l'ID del paziente che è stato selezionato, lo stato del sistema e la versione di sistema operativo su cui sta operando il medico. Questo è importante perché il medico può operare anche da diversi dispositivi, per esempio anche in mobilità, quindi queste stesse funzionalità gli sono disponibili anche per esempio mentre sta viaggiando o comunque quando è fuori dal suo studio. Ci sono una serie di icone che rappresentano la situazione del sistema. L'icona con l'abitazione vuol dire che è stata rilevata una presenza del paziente all'interno dell'abitazione, quindi il paziente è in casa. Se il paziente non fosse in casa l'icona sarebbe grigia. L'icona del telefono rappresenta la connessione del paziente con un sistema VoIP, quindi il sistema è anche predisposto per effettuare telefonate in caso di allarme oppure per ricevere chiamate e smistarle direttamente sull'interfaccia disponibile al paziente. L'icona con la bustina rappresenta il collegamento con un sistema di mailing. L'icona verde che rappresenta una telecamera significa che tutte le telecamere che sono state installate presso l'abitazione del paziente sono correttamente funzionanti. L'icona che rappresenta il fuoco significa che è stata rilevata una fuga di gas. L'icona con la goccia rappresenta il rischio di allagamento. In questa finestra viene mostrato al medico il live monitor dell'ultima zona dell'abitazione in cui è stata rilevata la presenza del paziente. Nella parte bassa dello schermo viene rappresentato lo stato delle terapie che sono state schedulate, sia terapie farmacologiche che analisi remote. Nel caso in cui qualche analisi fosse stata saltata, verrebbe segnalato qui, in modo che il medico può effettuare le operazioni che poi richiede apporto. Andiamo ora a esaminare le altre funzionalità disponibili al medico. Il medico può operare su una serie di dati anagrafica del paziente. In questa schermata vediamo la parte di dati anagrafici. È importante notare che il paziente viene profilato nel momento in cui si decide l'installazione presso la sua abitazione del sistema di home. Tornando alla parte di dati medici, andiamo ad esaminare l'anamnesi fisiologica del paziente. In questo caso viene riportata la data della prima visita, le informazioni che il paziente ha dichiarato in fase di anamnesi, attività fisica, uso di alcol, fumatore. Nel caso di pazienti di sesso femminile ci sono una serie di informazioni tipiche, data del primo menarca, menopausa, eventuali gravidanze, parti, aborti e così via. Proseguiamo sempre all'interno dei dati medici con l'anamnesi patologica. Anamnesi patologica che riporta tutte le patologie che il paziente ha indicato. Sempre proseguendo la carrellata arriviamo all'analisi patologica dei familiari. Qui sono riportate per ciascun familiare le eventuali patologie che il familiare ha dichiarato. Passiamo ora alla parte di schedulazioni. Come accennato in precedenza, il medico ha la possibilità di effettuare per ciascun paziente la schedulazione di terapie o di analisi. Questo vuol dire, nel caso per esempio delle terapie che esaminiamo per prima, che il medico può specificare che il paziente deve assumere un determinato farmaco in determinati giorni a determinate ore. Ciao Emanuele. Dovresti assumere il farmaco e confermare l'assunzione. Grazie. Sempre relativamente alle schedulazioni, la stessa cosa vale per le analisi che devono essere effettuate mediante i dispositivi biometrici installati verso l'abitazione del paziente. Nel caso del dimostratore di home abbiamo installato un pulsossimetro che è in grado di rilevare la percentuale di ossigeno nel sangue del paziente e il numero di battiti in tempo reale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oltre al pulsossimetro che abbiamo visto in azione, il sistema di home è in grado di gestire i seguenti sensori biometrici. glucometro per i pazienti affetti da diabete, spigomanometro per la misurazione della pressione sanguigna, spirometro per la misurazione del flusso dell'aria inspirato, CSR, galvanic skin resistance per la misurazione del sistema nervoso simpatico e quindi per analizzare situazioni emozionali del paziente, elettromiografo per analizzare la risposta elettrica dei muscoli e quindi per studiare eventuali deficit nell'attività muscolare e come dispositivi biometrici indossabili un ECG a tre vie, un elettrocardiografo a tre vie e una fascia di rilevamento per cadute e per il comportamento del paziente, quindi per l'analisi dei periodi di tempo che passa seduto, in movimento, sdraiato. Proseguendo con le funzionalità disponibili abbiamo la funzionalità di monitoraggio dell'abitazione del paziente attraverso le telecamere installate. Il sistema consente al medico di spostare, quindi di monitorare l'ambiente attraverso due modalità, una modalità che è quella chiamata touch, consente di fare effettuare degli spostamenti alla telecamera mediante la pressione del dito, in questo caso del mouse che simula il dito sullo schermo. L'altra modalità con cui il medico può muovere la telecamera è tramite i tasti, quindi abilitando una funzione chiamata PTZ Key, spostando con le freccette sulla tastiera si effettua anche lo spostamento della telecamera. L'altra funzionalità che è particolarmente utile al medico si chiama follow event, il medico può selezionarla, quindi disabilitarla o abilitarla. Nel caso in cui venga abilitata, e in questo caso la presenza è stata rilevata in giardino, quindi il paziente è uscito da casa, il sistema mostra in live monitor l'immagine della telecamera che in quel momento inquadra la zona dove è stata rilevata la presenza del paziente. Andando avanti abbiamo la parte di consulto, la parte di consulto consente al medico di effettuare una audio-videoconferenza con il paziente presso la propria abitazione. Questo può essere necessario sia perché il medico ha rilevato qualche problema durante il monitoraggio, magari durante qualche analisi biometrica, piuttosto che qualche parametro ambientale è stato, risulta diciamo fuori controllo e quindi magari ha interesse di parlare con il paziente, oppure semplicemente per dargli un supporto molte volte anche psicologico. Dica dottore, buongiorno, la chiamavo perché ho notato nell'ultima analisi che le sue pulsazioni erano un po' alte, devo solo sincerarmi che se fosse stesse bene? Sì sì, è solo dovuto al gran caldo che fa e poi ancora non ho mangiato. L'interfaccia paziente del sistema di home si pone come centrale di gestione di una serie di servizi per il paziente, quale segnalazione e controllo delle chiamate telefoniche in arrivo, segnalazione e controllo delle chiamate citofoniche, sistema di ricezione di messaggi informativi da parte dei caregivers con differenti livelli di priorità, sistema di allarme anti-inclusione nell'abitazione del paziente, monitoraggio delle condizioni climatiche. L'interfaccia di controllo unificata del paziente visualizza in tempo reale le condizioni climatiche all'interno e all'esterno dell'abitazione, segnalando al medico e ai caregivers condizioni di potenziale pericolo per la salute del paziente. Il sistema di home è integrato con il telefono VoIP installato presso l'abitazione del paziente. All'arrivo di una telefonata il paziente viene informato mediante avvisi luminosi ed acustici e gli viene mostrata una schermata che, se il chiamante è presente nella rubrica del paziente, ne visualizza anche un'immagine per consentirlo una più facile identificazione. Allo stesso modo, all'arrivo di una chiamata citofonica, il paziente viene informato attraverso delle segnalazioni luminose ed acustiche, la telecamera esterna viene automaticamente posizionata di inquadrare l'area citofonica e l'interfaccia del paziente gli presenta una immagine di chi sta suonando in quel momento il citofono, con la possibilità anche di aprire il cancello direttamente dall'interfaccia tablet. Attraverso il sistema di control room, i caregivers possono inviare all'interfaccia del paziente dei messaggi per informarlo di situazioni di suo interesse o di potenziale rischio per la sua salute. I messaggi possono avere tre tipi di priorità, normale, importante e urgente. Per i messaggi di livello urgente, magari relativi a avvisi di calamità naturali o altre situazioni di potenziale pericolo, il sistema, dopo aver informato l'utente, propone al paziente se è necessario informare i suoi familiari per avere del supporto. Altra funzionalità del sistema è quella che viene chiamata la parte di control room, ovvero sia di monitoraggio e gestione dei parametri di sensoristica e degli attuatori installati presso l'abitazione del paziente. Presso l'abitazione del paziente non sono installati soltanto dei sensori, quindi strumenti in grado di rilevare dei parametri o ambientali o biometrici, ma anche degli attuatori, ovvero sia strumenti in grado di effettuare delle operazioni, quali ad esempio accensione di luci, aperture di porte, accensione di pompe di drenaggio e così via. Abbiamo la funzionalità di monitor ambientale a disposizione del medico, la funzionalità di monitor ambientale fondamentalmente visualizza lo stato dei sensori all'interno dell'abitazione, quindi ci dice i sensori di movimento installati, se c'è qualche segnalazione, ci dice se ci sono state delle aperture di porte tramite sensori magnetici, ci dice temperatura e umidità esterna, interna e grado di luminosità. Il medico, come dicevo prima, può anche intervenire su degli attuatori ambientali tramite la parte di management di device ambientali, viene visualizzato l'elenco di tutti gli attuatori disponibili con lo stato di ciascuno degli attuatori, il medico può effettuare dei comandi su questi attuatori, altra funzionalità che il medico ha è quella nella parte di management e quella della gestione dei device medici. Abbiamo visto in precedenza che il medico schedula tendenzialmente una serie di analisi che vengono effettuate dal paziente. Il medico ha la possibilità anche di forzare in tempo reale un'analisi, nel senso chiedere al paziente di indossare lo strumento di relazione biometrico e di forzare, quindi di acquisire in tempo reale al di fuori delle schedulazioni i parametri vitali. Questo può essere sempre utile nel caso in cui si rilevi una situazione di alterazione o comunque una situazione che vada fuori dai parametri standard o comunque quando il medico lo richiene necessario. Al prossimo episodio